In questo video tutorial vedremo come rimontare la scatola Norton del tornio Enco MaxMat Super 11. La scatola è stata pulita e riverniciata ed è pronta per essere rimontato. Per il montaggio è necessario seguire una sequenza precisa altrimenti sarebbe impossibile completarlo. Ho già provveduto alla sostituzione del paraoglio incorporato nella scatola così come gli altri due installati sulle due flange esterne di alluminio. Il primo ingranaggio da installare è quello che controlla l'albero esagonale e va infilato dall'interno nel foro con la boccola sulla destra. Proseguiamo con l'ingranaggio che si vede nel video che si innesta sull'alberino già presente nella scatola avendo cura di fare in modo che i due ingranaggi si ingaggino l'uno sull'altro. Sul perno va inserita una rondella e un seger di ritenuta così da tenere l'assieme bloccato in sede. Controllare il corretto inserimento del sieger in sede e verificare la corretta rotazione di entrambi gli ingranaggi. Passiamo ai due leveraggi che servono per muovere gli ingranaggi per le varie combinazioni di velocità. Per rimontare gli o-ring ricordiamoci sempre di lubrificarli leggermente. Ora calziamo l'oring sull'albero e con le dita aiutiamo la scorrere sino alla sua sede. Lubrifichiamo bene tutto l'albero e inseriamolo nel foro sul frontale della scatola naorto. Naturalmente bisogna prima inserire la sferetta d'acciaio nel foro della scatola e la molla nel perno per il movimento. Poi con molta pazienza inserirla in sede. Non è importante quale foro si scelga da usare per la sfera. Passiamo al secondo leveraggio. Come prima lubrifichiamo lo ring. Facciamolo scorrere in sede. Lubrifichiamo l'albero. Inseriamo la molla nel foro. Posizioniamo la sfera d'acciaio e infiliamo il tutto in posizione così come abbiamo fatto in precedenza. Una volta montati, premendo le alberi verso il basso, li riottiamo entrambi in posizione centrale. Prendiamo i due blocchetti di ottone e posizioniamoli nel perno sporgente della leva. Così come stiamo vedendo nel video. Per il corretto montaggio consulto sempre il manuale di manutenzione del tornio, anche se durante lo smontaggio ho segnato tutte le posizioni di ogni singolo pezzo. Spesso capita che qualche pezzo si possa spostare e l'unica sicurezza è proprio il manuale d'uso. Ora dobbiamo inserire l'albero più lungo, quello che ha due chiavette. Guardate con attenzione il video così da non sbagliare. Inseriamo l'albero nel foro di sinistra. Il primo gruppo di ingranaggi da inserire è quello che vi mostro e va inserito nel senso corretto, con l'ingranaggio più piccolo verso l'albero. Posizioniamo lo svaso sul blocchetto di ottone e facciamo scorrere l'albero. Fare attenzione alle posizioni delle chiavette. Ruotiamo l'albero per trovare la posizione corretta. Passiamo al secondo ingranaggio. Come prima va montato con la sede per il blocchetto d'ottone verso l'albero. Appoggiamo l'ingranaggio sul blocchetto di ottone, teniamolo in posizione e facciamo scorrere l'albero, facendolo ruotare per allinearli con le chiavette. Le chiavette da centrare sono due. Ruotiamo gli ingranaggi e spingiamo l'albero nella propria sede, fino a quando i due ingranaggi sono calzati correttamente nelle due chiavette. Ora lubrifichiamo leggermente il nostro albero, così da aiutare lo scorrimento degli ingranaggi per i vari test di posizionamento. L'albero rimarrà in posizione e si bloccherà al suo posto, una volta rimontato i blocchi d'alluminio laterali. Passiamo al montaggio del primo albero di destra, quello che sul manuale viene identificato come X. Questo è composto da due sezioni. Come al solito lubrifichiamo bene l'albero per aiutare lo scorrimento degli ingranaggi. Infiliamolo nei fori e lo puntiamo sul supporto centrale. Prendiamo il primo ingranaggio da 30 denti, un distanziale, un ingranaggio piccolo da 19 denti, un altro distanziale e ora l'ingranaggio più grosso da 40 denti. Attenzione, la parte senza la sporgenza va a contatto del distanziale. L'ultimo ingranaggio da montare è quello da 14 denti. Ora con molta pazienza facciamo scorrere l'albero in posizione, facendolo ruotare leggermente e spingendo gli ingranaggi uno per volta finché le chiavette si allineano ai propri fori. Posizioniamo gli ingranaggi e l'albero nel modo corretto come si vede nel video. Ora vanno montate le rondelle rectificate. Queste possono essere diverse da tornio a tornio. Nel mio caso sono tre, due da un decimo di millimetro e una da tre decimi di millimetro. L'ultimo pezzo da montare è l'ingranaggio che muoverà l'albero esagonale. Una volta inserito questo andrà bloccato da una spina di sicurezza in alluminio. Passiamo al montaggio dell'ultimo albero. Prendiamo il supporto di alluminio, quello con un solo foro. Lubrifichiamo bene l'albero poiché deve attraversare un paraolio. Perciò prima di incastrare l'ultima parte lubrifichiamolo bene così da non rovinarlo. Ora va montata la guarnizione che avremo l'accortezza di lubrificare per aiutarla a stare in posizione e per migliorare la tenuta. Mettiamola in posizione sul supporto di alluminio e infiliamolo nel buco dell'albero. Quella che vediamo sarà la posizione finale. Possiamo infilare il primo distanziale direttamente sull'albero avendo cura di centrare la chiavetta. Poi infiliamolo assieme nel foro. inseriamo il primo ingranaggio da 30 denti. La parte piatta va verso il distanziale. Il secondo ingranaggio da 28 denti. Un distanziale. Il terzo ingranaggio da 25 denti. un distanziale. Un ingranaggio da 24 denti. E l'ultimo ingranaggio da 28 denti. Terminiamo con le rondelle rettificate e il seager che terrà nella giusta posizione gli ingranaggi. spingiamo a fondo tutto l'assieme in posizione. Una volta in posizione possiamo inserire le quattro viti per il fissaggio del blocco di alluminio verificando che la guarnizione sia posizionata correttamente. Stringiamole ma non serriamole nel caso sia necessario smontare qualcosa. Per verificare il corretto funzionamento dei due leveraggi per il cambio velocità dobbiamo montare le due manopole. Per ora è poco importante la posizione. L'aggiusteremo in seguito quando ne conosceremo la corretta posizione. Montare ambe due le manopole e fissarle con la loro vite a brugola. Agendo su ambe due le manopole verifichiamo che si possano raggiungere tutte le posizioni disponibili. 5 per una manopola e 3 per l'altra. Ora montiamo l'O-ring sul secondo supporto di alluminio. Lubrifichiamolo e mettiamolo in posizione sulla sua sede. Una volta montato lubrifichiamo ancora per poterlo inserire in posizione. Posizioniamo il blocco di alluminio e spingiamolo con forza nella scatola. L'O-ring farà un po' di resistenza. Passiamo ora al fissaggio delle quattro viti e procediamo a serrarle definitivamente, comprese le quattro dal lato opposto. Per stringerle usiamo il serraggio contrapposto a croce. Inseriamo sulla parte frontale la spia trasparente per il livello dell'olio. Possiamo stringerla e serrarla definitivamente. Per completare il montaggio ora manca solo il tappo per il riempimento dell'olio. Montiamolo e stringiamolo senza serrarlo. Dovremmo toglierlo per mettere l'olio una volta montato sul tornio. Abbiamo terminato. Spero che questo video possa essere utile a qualcuno. Grazie per la visione.